Ma che cazzo è capitato un po' a Dio Can? Non si muove se è Dio bastardo. Ma io perdono solo perché è il 26 aprile Dio Can. Io libero un po' la gente, la gente che non ha i coglioni pieni e si vede che si vengono fuori. Io andare in bar a bevare spritz forse, Dio satellite, io fa anche bene Dio Can. 6-7 mesi di lockdown, da ottobre Dio can che ferma la gente, Dio invulnerabile. So che non capisco perché che sia tutto sto traffico, Dio locomotore. E anche un po' Dio can partì presto e dopo imbottigliato il traffico, Dio Daltanius. Non se ne esce più qua a Dio Can. È una bella ora che vado in palestra stasera, Dio idiota. E anche oggi si va in palestra domani, Dio cane. Beh dai, al manco un centimetro alla volta se va verso casa. Fortuna che queste situazioni non mi danno fastidio. Dio Black & Decker. Guarda Dio can. Qua là è l'autostrada. Mi domando perché non ho preso l'autostrada, Dio bestia. La storia è l'autostrada, Dio can. Guarda che scorrevo il calè, Dio mega borga. E invece mi trovo qua, guarda, imbottigliato, Dio schifoso. E sarà ancora 6-7 chilometri prima di arrivare. Dio can. Ma che vorrà un'ora andando avanti così, ben chiavare. Dio Plutonio. E tutto perché tutte strade studià per 60-70 anni fa, Dio can. E quando che sto traffico qua non esisteva. E quindi adesso se si imbottiglia, adesso tutte ste macchine, sti camion qua, io Dio consumare petrolio, risorse, per l'anima del cazzo. Fare stesso tragitto che magari metteva un litro, a macchina, un litro a camion, adesso te ne vuoi tre. E via Dio can. Questo moltiplicato a tutte le strade d'Italia, viene fuori all'ira del Dio del consumo, per l'anima del cazzo, ogni giorno. Dio radioattivo. Beato quello qua moto, Dio can. Guarda. Se non si strifè in mezzo a due macchine, Dio can, lui arriva con due ore di anticipo rispetto a me. Dio pavone. E non si va avanti qua. Non si va avanti, Dio can. Se mi usò il camion, vado a Vicenza a piedi, arrivo prima. Dio androide, guardati. Guarda che fatto traffico, Dio ne squeak, Dio can. E magari non c'è un cazzo davanti, magari non si è successo niente, però siamo tutti in cona. Più avanti là, che se è una rotatoria, può darsi che sia casino là, Dio bestia. E di nuovo fermi, Dio full metal cane. Ancora fermi, Dio cinghiale, guarda. Madonna, bestia, Dio cambio, porco Dio boia. Fortuna che non c'è la fiera della merda, perché se c'è la cazzo della fiera della merda e dei cazzi in culo, non lo so, Dio can. Madonna puttana. Non c'è la fiera traffico, non c'è la fiera traffico, Dio sporco, che rottura dei coglioni, Dio babbuino. Guarda, guarda questo qua. Questo qua che dà fastidio a salute. è il primo che avversa la porta, se trovi in ospedale, guarda, è indirettissima. Che rottura del cazzo, Dio, che brittonia. Salve. Beh dai, in 5-6 minuti, ho fatto quasi un chilometro, roba da record, Dio can. Roba da record. Speriamo che sia cascato un satellite, Dio can, sulla strada. Ma manco sarebbe un'ottima scusa per questa rottura del cazzo, incredibile. Non so più come rompere i coglioni al popolo, Dio can. Non bastava meno il covid, Dio porco. ma manco l'altra cosa sia va più veloce. Guarda che brutta situazione, Dio schifoso cane, madonna puttana, Dio porco. Ed è appena lunedì, Dio can. Schifala madonna, mandraic, Dio cani, Dio boia. E fermi un'altra volta, Dio King Kong. Che bella fanciulla. Il problema è che finì questo tratto qua, sarà un altro chilometro e mezzo, rotatoria, e poi un altro di 3-4 chilometri. Quindi vuol dire che Fia Vicenza ha ancora un 5-6 chilometri di colonna. Dio pulcino. Che tradotto in bestemmie vuol dire che ancora ha ganato circa un migliaio da tirare prima di arrivare in dita. Dio can. E dopo, oltretutto, bisogna che tocca la sua macchina. Altra colonna, ancora. Dio schlauto, cane, Dio porco. Guarda come che deve vivere la popolazione Dio can. andiamo avanti qua, Dio kinder, andiamo. Dio can butta dentro la scelta, guarda che velocità. Quasi 20 all'ora Dio can, per 30 metri, ecco, è già fermo. Dio can, che lunedì di merda. Dio plutone, Dio can, che lunedì di merda. 25 all'ora, ben 25 km orari, quasi 30, 28, 29, 30 all'ora, 30 all'ora ragazzi. non posso credere che ho raggiunto i 30 all'ora in colonna. Dio Miguel do Brasil Sampaio. 20 all'ora ancora, Dio can. Volto a vedere che Dio liberasse la colonna. Comunque qua in mezzo al traffico, oltre a mia, ho visto qualche bella faccia da culo, Dio can. non sono solo. Ho visto delle belle facce da culo. E anche qualche figa, a dire la verità. Questo è un tratto che quando non è traffico, che non è giù.